In ogni contenuto di questa videoguida avrai visto il link che ti porta a prenotare una videoconsulenza. In questo video ti spiego di cosa si tratta. Sono Giorgio Sandrone, sono fotografo, racconto momenti speciali e sono una guida safari. Promuovo un metodo non convenzionale che garantisce un risultato vero e spontaneo, semplificando la vita di scuola. Normalmente le coppie incontrano i fotografi in studio. In un appuntamento che dura almeno circa un'ora, che a quanti fatti si trasforma in un appuntamento di vendita finalizzato a consegnare un preventivo, che nella maggior parte dei casi è un pacchetto o un copia in colla di altri matrimoni. Questa modalità l'ho proposta anch'io e per tanti anni, ma mi sembrava sempre che mancasse qualcosa. La prima cosa che manca è la chiarezza di informazioni da condividere con chi si sta affacciando per la prima volta in un mondo completamente nuovo e nei cui confronti non ha esperienza. E ho creato questa videoguida proprio per colmare questa mancanza. La seconda mancanza è il fatto che, in un appuntamento di studio, come ti ho spiegato, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un'opportunità di vendita dei fotografi, quando invece un incontro serve a valutare se e come chi hai davanti fa per te e come è possibile arrivare al risultato che desideri. La videoconsulenza serve, infatti, proprio a colmare queste mancanze. Non si tratta, infatti, di un appuntamento, ma di una vera e propria consulenza, al termine della quale riceverai un report. La prima parte della consulenza sarà molto importante perché servirà per capire chi sei, chi siete, quali idee e quali desideri avete. Nella seconda parte potrò condividere con te il mio punto di vista, descrivendoti quali sono le soluzioni che possono fare al caso tuo. Se vedo alcuni punti critici, non mancherò sicuramente di sottolinearteli e ti consegnerò un report che sarà una mappa che ti aiuterà a creare il tuo servizio fotografico perfetto. Magari ora ti starei chiedendo, o te lo sei già chiesto, ma quanto costa tutto questo? La videoconsulenza è gratuita e ha una durata di circa un'ora. Puoi trovare nel link qui sotto le date disponibili in modo da prenotarle oppure mi puoi contattare in privato per valutare eventualmente date o orari che non trovi nella agenda. Per quello che riguarda il servizio fotografico del matrimonio, la risposta non posso dartela qui. Se hai visto questi video avrai capito che non è possibile mandare un preventivo, a meno che non si lavori seguendo pacchetti e formule copia e incolla uguali per tutti. Per formulare un'offerta è importante prima verificare molti dettagli e fare un vero e proprio progetto. Se ad esempio tu volessi ricevere un progetto con un'offerta, allora dopo la videoconsulenza, se vorrai, invece di consegnarti un report, ti potrò preparare un progetto in cui troverai i dettagli per il tuo servizio specifico. Se avrai compilato la tua wedding matrix, se avrai visto i contenuti di questa videoguida, allora avrai un grado di consapevolezza molto alto rispetto ad una comune sposa che dedica il suo tempo soltanto a guardare vetrino online e chiedere classici preventivi per pacchetti copia e incolla. Avrai sicuramente anche un foglio pieno di appunti e di domande e sarò veramente felice di incontrarti, di rispondere alle tue domande e ad aiutarti a capire come creare il tuo servizio fotografico perfetto. Ti ripeto, è gratuita, quindi la risposta a quanto costa la sai e aggiungo che costa di più non farla e tralasciare i contenuti di questa videoguida che dedicare un'ora di qualità del tuo tempo al tuo futuro e a un progetto dettagliato. Il link è qui sotto e se vuoi pronotare la tua videoconsulenza io ti aspetto.